Salve a tutti i tizi con le gambe e benvenuti a questa nuova puntata di oggi Faremo una nuova ricerca per vedere questo nuovo canale su YouTube Che si chiama... un attimino eh Che si chiama Gamers... Gamers... Disagiati Nome di merda sicilamente Come vedete hanno 8354, 22 persone Quindi si sono un canale di 354 persone che fanno video una volta a settimana E io sinceramente questo... questo non lo ho Tutti gli admin iniziano con la sci Questi sono i soldi che fanno al mese Le pepele ricotte insomma sono abbastanza buone Hanno copiato molto fa VJ Questi sono invece i gradi che ho in casa Ovvero meno perché insomma non so proprio 362 Ho il limite per X che tende a 20.000 Questi sono... sono invece i gradi che ci sono a casa dei gamers disagiati Come potete vedere sono molto ricchi quindi si possono permettere le temperature molto più basse in casa Che il piccino gli scalda e hanno insomma il dissipatore molto molto bello Questo invece... ma boh Come potete vedere infatti sotto c'è il prezzo del loro dissipatore 16 e 99 euro Potete vedere qui che ora hanno 22 iscritti Ma... tra 5 anni saranno 1000 Ma... comunque non è... non è... E poi ecco... possiamo vedere gente E come fanno video molto di merda Visto... visto una volta o comunque fanno parecchio... Insomma fanno... insomma questo dovrebbe averlo fatto Quello... quello lì... quello lì che perde tempo a vedere la roba yaoi La roba monster track come si chiama? Le cose lì Oh mi cabba la figlia insomma... Ste... ste cose sono farei brutti Visto una volta magari possono anche fack up Se noi si play al video varie volte Ci mettiamo i giochi al prezzo più basso di un particolare cale In questo caso dal prezzo più basso ma alle valutazioni E salve amici Siamo vi abbiamo insegnato un occhio E salve amici Siamo vi abbiamo insegnato un occhio Ciao 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 Grazie.